14 agosto 2023 e quando sto libro faccio sempre delle belle passeggiate adesso ci troviamo qui davanti al cimitero, il cimitero sta a 500 metri, qui c'è la chiesa santa maria e questo è il parcheggio, un ampio parcheggio, partiva al cimitero partiva la chiesa santa maria e qui passeggiamo in montagna avviciniamoci qui e così abbiamo una migliore visualizzazione più ampia sia del parcheggio si, fanno andare un altro poco più avanti questo è il parcheggio passiamo da questa parte qui c'è una piccola pineta questa è la strada che sale verso la montagna vuole fare iscrizioni questa è la strada che si indige la provinciale è l'area senza facciamo anche un bella passeggia da qui verso la chiesa di santa maria delle grazie cimitero c'è santa maria